ciao un saluto a tutti buon weekend volevo vedere con voi il grafico della coppia euro jpy cioè euro contro yen giapponese perchè la situazione se noi la andiamo a vedere su questo time frame daily qui è un grafico pulito nel senso anche tolto la media quindi lavoriamo veramente solamente sui livelli quello che vediamo è che secondo me al di là della rottura dei 125 che poi è stato testato per due volte e poi si è avuto una ripartenza del prezzo adesso la situazione non è molto chiara non è molto chiara perchè c'è nel breve un trend di alzista nel medio periodo vediamo che sopra i 125 si è toccato poi i 137 ma sembra più che si sia in un trading range questo massimo possiamo dire che era stato rotto eccoci qua e adesso è stato retestato ma comunque non è una situazione estremamente chiara anche perchè abbiamo poi una serie di resistenze eccoci qua subito poco sopra i massimi precedenti massimi che hanno anche lasciato una candela di stampo di bassista e poi un pattern engulfing e in ogni caso poi avremo un'altra serie di massimi quindi sul daily è una situazione non molto chiara passando sul weekly anche qui la situazione non è chiarissima ossia si vede chiaramente eccoci nell'ultimo periodo il trend rialzista ma quello che avevamo visto prima chiaramente ovviamente lo rivediamo anche sul daily sul weekly una resistenza molto vicino quindi non è estremamente semplice andare a individuare un ingresso un ingresso o comunque un ingresso chiaro anche dettato da una candela visto che l'ultima settimana abbiamo una doci quindi una candela di incertezza avendo però chiuso contestualmente come ho detto in un video anche il mese in questo caso lavorando sul mensile perchè questa candela è valida in quanto è una chiusura del mese perchè oggi è il 29 di settembre possiamo andare a vedere come vi siano invece degli indizi e che ci possono dare degli spunti su quello che possiamo aspettarci in primo livello su questo livello 3, 4, 5 volte un test duplicando la linea vediamo che si è formato un canale qui abbiamo avuto questo test quindi questa linea è una dinamica una resistenza chiarissima qui è stata rotta e qui è stata retestata ma se andiamo ancora un'altra volta a duplicarla vediamo come in maniera molto precisa eccoci qua ci vado a segnalare ho avuto anche con un minuto di tolleranza possiamo definirlo un test ci vado a segnalare che è nel lungo periodo una serie di massimi e eccoci qua e poi di minimi eccoci qua decrescenti quindi qui l'indizio è abbastanza è abbastanza chiaro sia un riavvicinamento in area 136 andrebbe a retestare questa parte alta del canale e quindi qui se la candela mensile dovesse lasciare un pattern o essere una candela ribassista sicuramente ci darebbe un indizio importante per un trade peraltro anche di medio e lungo periodo per andare a prendere una parte importante di spazio grafico e quindi anche di tempo nella discesa per cui come ho già detto utilizziamo questo fine settimana per cercare anche e soprattutto sul mensile essendo una candela chiusa settimanale una candela chiusa anche mensile per andare a cercare di capire diciamo se non proprio di impostare il trade ma di capire il sottostante esaminato effettivamente di cosa ci offre buon weekend a tutti